L'ha organizzato un giornalista, Luciano Cesaretti, fondatore e capitano del Borgo Rosso. Il comandamento è il fair play, lo slogan Avversari sempre, nemici mai. Dal lunedì al venerdì sempre alle ore 21.15. Partite di 80 minuti dirette da terne arbitrali su campi sintetici di nuova generazione. Previste fasi regionali e nazionali. Per info sulle nostre attività visita il sito www.calcioelite.it Seguici sulla pagina Facebook Campionato dell'It attraverso Instagram e gli altri social. Ci trovi anche sul sito www.tuttocampo.it Grazie a tutti.